Salve a tutti, in questo video vediamo come sconfiggere inox senza problemi. Come potete vedere la tattica è sempre una, colpire l'occhio e poi correre e dargli qualche colpo ravvicinato. Poi allontanarsi di nuovo, riprendere l'arco e di nuovo colpirgli l'occhio. Molto intuitivo devo dire, provate ad usare frecce più potenti rispetto alle normali frecce di legno e anche se non lo colpite continuate a girarli in cerchio, cercando di prendere la mira. Quindi praticamente lo finiremo quasi tutto a frecce. Ecco qua, vedete l'energia gli va giù abbastanza rapidamente anche con le normali frecce di legno. Ora però le ho finite, quindi usiamo quelle di fuoco e vediamo la differenza. Ecco qua, è molto più semplice. Quindi quando barcolla subito andiamo gli ai piedi e colpiamolo. Quindi allontaniamoci di nuovo. State attenti al bastone, quindi continuiamo a rimanere a distanza e poi di nuovo avviciniamoci e colpiamolo. Ok, gli manca pochissimo. Lo finisco direttamente con le frecce. Quindi mi allontano ancora, mirare all'occhio. In questo caso ha anche resistito però. Perfetto. Ed Hinox è morto. Quindi questa è la tattica, frecce e poi colpirlo da vicino. Un saluto a tutti.